Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui alla camera mia di nuovo Adesso ti faccio vedere da Blu-ray Ora lo saprete Oh scusa 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 Ecco i Blu-ray Queste qua, queste è il Blu-ray che abbiamo comprato Da Blu-ray Dell'anno scorso Solo Notobre, settembre O dicembre, che ne so, non mi ricordo Non so, non lo so Ok E questo per parlare, Gia Ok Gia, suddossite sul mio canale E ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti